Io mi sono inorridito per aver visto cose che secondo me non si fanno neanche nei paesi più sperduti della provincia o dell'Italia. La piazza è stata rattoppata in maniera indecorosa, parla Guido Riccio, consigliere di minoranza di Ariano, dopo che stamattina sono stati eseguiti i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale. È possibile che la piazza principale viene rattoppata in quel modo con i colori nero che emerge a vista d'occhio rispetto al bianco della piazza. È un disdoro, voglio dire che noi a Ariano a questo punto abbiamo un assessorato al disdoro e non al decoro. Riccio si fa portavoce delle lamentele di diversi cittadini che si sono ritrovati di fronte ad una piazza bicolore. Appena arrivato in piazza sono stato aggredito da tantissimi cittadini i quali poi non distinguono tra opposizione e maggioranza. Però io devo dire che a questo punto il comune deve effettivamente fare un punto della situazione o se no io invito la cittadinanza a ribellarsi a questo stato di cose. Non è più possibile andare avanti con questo abbandono generale del comune ma con questo disinteresse generale della città.